Programmi con servizi telefonici a pagamento su pronostici dell'otto, magie e cartomanzia rivolti a soggetti che credevano di poter ottenere valide anticipazioni su serie numeriche o sul proprio futuro. Il tutto è risposta a desideri personali purtroppo delusi, visto anche il costo elevato delle telefonate in chiaro abuso della credulità popolare. Per questo oltre 90 emittenti radio televisive su 100 controllate dai finanzieri del nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria sono state segnalate all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per violazione del testo unico dei servizi audiovisivi e radiofonici. Dieci le denunce, due per favoreggiamente sfruttamento della prostituzione, alcuni casi di immagini crude venivano poi trasmesse in fascia protetta e senza il necessario preavviso.